Oroscopo del giorno, sabato 30 aprile 2022 Ariete Amore, questa sarà una giornata abbastanza tranquilla per voi e il vostro partner. Molto probabilmente saranno previsti meno colpi di scena rispetto ai giorni precedenti. Questo aspetto riguarda soprattutto i single. Lavoro Tutto ok sul lavoro dopo due giornate piuttosto positive in ufficio. Toro Amore, venere sarà finalmente in ottima posizione e infatti oggi potrete vivere ogni emozione al massimo possibile. In questa giornata la passione e il romanticismo saranno veramente alle stelle. Lavoro Non male per il lavoro in questo ultimo sabato del mese. Vi sentirete piuttosto tranquilli con i vostri impegni. Gemelli Amore, in questa giornata potrebbe esserci una qualche cosa in più per la vostra relazione, per la vostra nuova conoscenza. Dopo dei giorni con venere per niente favorevole, era anche arrivato il momento. Lavoro Mercurio e Marte finalmente la smetteranno di remarvi contro. Qualche miglioramento e un rapido recupero in corso. Cancro Amore, dopo alcuni giorni piuttosto nervosi, la luna non sarà più in opposizione. Questo potrebbe iniziare a favorire di nuovo i vostri rapporti, quindi potrete godervi nuovamente le emozioni con il partner, o magari una persona nuova. Lavoro Lavoro Cercate di essere più concentrati su quelli che sono i vostri impegni, e meno sulle polemiche. Vergine Amore Dopo alcuni giorni molto pesanti, da oggi inizieranno i miglioramenti più importanti. Questo ultimo sabato del mese, finalmente, potrete stare più sereni con le persone che amate e che vi amano. Lavoro Molto bene pure sul posto di lavoro, perché gli impegni potrebbero essere svolti con una maggiore positività, e magari anche con più leggerezza. Bilancia Amore Finalmente da oggi la luna non sarà più in opposizione, e questa è una ottima notizia. Per voi e i vostri rapporti, vuol dire che sarà un sabato molto piacevole, e tutto da godere con serenità. Lavoro Meglio anche per il vostro lavoro, infatti sarà un sabato ottimista, perché avrà degli impegni da dover svolgere. Scorpione Amore Da questa giornata di fine aprile ci sarà purtroppo la luna in opposizione, e voi dovrete contrastarla. Per oggi infatti le relazioni o le nuove conoscenze potrebbero avere dei momenti no, una discussione per esempio. Lavoro Contrattempi possibili durante questo sabato lavorativo. Dovrete fare una certa attenzione. Tagittario Amore Sarà un sabato abbastanza tranquillo per l'amore. Ancora una volta potrete continuare a godervi i vostri sentimenti di coppia, o una nuova conoscenza con qualcuno, se siete ancora soli. Lavoro Mercurio in opposizione non vi renderà semplice la giornata lavorativa, se avrete dei compiti già piuttosto complicati da mettere in atto. Capricorno Amore Dopo alcune giornate con la luna in opposizione, da oggi finalmente tornerà al sereno, e non sarete più così nervosi. Potrete dunque tornare a godervi i vostri rapporti in modo molto più leggero. Lavoro Discorso simile anche per il lavoro, pure qui non ci sarà più tutta quella tensione che c'era prima. Acquario Amore Ultimo sabato di aprile decisamente agitato, perché le stelle inizieranno a portare davvero tanto nervosismo, tutt'altro che piacevole. Cercate di stare quanto più sereni possibile, con i vostri affetti, per evitare problemi. Lavoro Sul posto di lavoro potreste sentirvi piuttosto agitati. Non gli mischiatevi in progetti o situazioni che sono un po' troppo per voi. Meglio attendere il momento giusto. Pesci Amore Sarà una giornata piuttosto buona per i sentimenti delle coppie, come anche per le nuove emozioni dei single, anche se non arriveranno troppe novità. Lavoro Occhio a Mercurio in posizione contraria, che potrebbe complicare la vostra giornata di lavoro. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti. Occhio a Mercurio in posizione contraria, che potrebbe complicare la vostra giornata di lavoro. Occhio a Mercurio in posizione contraria. Occhio a Mercurio in posizione contraria, che potrebbe complicare la vostra giornata di lavoro.